Il 15 e 16 maggio si vota per cambiare. Per la tua città, un triestino. Mi candido perché Trieste sia libera e forte, perché vinca le scommesse che la storia le mette davanti, perché costruisca il suo futuro con idee, impegno e rispetto. Sono orgoglioso della nostra storia, almeno quanto sono geloso del domani, di chi in questa città vive e lavora. Il 15 e 16 maggio si vota per cambiare, scegliendo Franco Bandelli, scegliendo un'altra Trieste.